Salve a tutti ragazzi, oggi, anzi per te più stasera, fare uno scherzo di mio padre. Vedete questi calzini per terra? Aspettate, sì, ecco, li vedete? Ecco, li ho buttati di bello scherzo, dopo li lo colgo io. Anzi, facciamo più casino, perché voglio farlo stare di mio padre, se non potete capire che sono diventato pigro, perché non c'ho voglia di pulire. Questa è la selezione? E diremo, papà, vieni a pulire, non c'ho voglia. Vediamo la selezione. In tutto, scrivetevi, lasciate una campanella a like, scusate, mi fa troppo idea questo scherzo. e mettetevi un commento che ha scritto e vi fa il papà e la mamma. Papà! Sto facendo un video per YouTube. Senti, per favore, quando sto facendo il video, puoi rendermi a riordinare la cameretta? Ma la puoi riordinare, ho portato un po' di roba per terra e non c'ho voglia di raccoglierla. No, mamma, mamma, raccogli, dai. E dammi le patatine. E tu non raccogli? I calzini e i fazzoletti che ho portato per terra, papà. Perché? Anche in gioco? No, papà, voglio ripulire, non c'ho voglia. No, papà, voglio ripulire, non c'ho voglia. Non fai capricci con me, questi papà. No, mamma, ho fatto veramente un casino, va a vedere. Ma che mai va via lì? Eh? È che ho fatto un po' di casino perché ero stanco e quindi... Adesso ci prendi il piano. Vai, non c'ho di schiaffi. Eh? Vieni. E allora? La cogli. Pam, 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 pam. Ah, ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Ah, ma, ma, ma. La cogli, dai, raccogli la roba, non ce la voglia io. Ma, 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 ma dai su, raccogli? No, no, non ce ne fa la mia. Va bene, non le i my... Il loro spalgo, raccogli tu. No, ma, 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 ma. Dai, raccogli. e va bene grazie di uno scherzo non ci sei cascato mamma mamma perché adesso raccolgo io mi dispiace ragazzi ma non ci è accaduto manco per niente domani purtroppo sono gli esami e poi ciao scuola finalmente la scuola è finita buona estate a tutti anche e il video può finire qua mi raccomando non dimenticatevi di lasciare like iscrivervi al canale attivare la campanellina e scrivervi nel commento viva il papà o viva la mamma per il papà facciamo un cuoricino blu e per la mamma un cuoricino rosa ciao e buona estate a tutti e buon esame